Soggetto Io Tu Lui Lei Noi Voi Loro Oggetto diretto Mi Ti Lo La Ci Vi Li Oggetto indiretto Mi Ti Gli Le Ci Vi Gli Riflessivo Mi Ti Si Si Ci Vi Si Possessivo Mio Tuo Suo 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 Nostro Vostro Loro Oggetto indiretto A me A te A lui A lei A noi A voi Allora Mi piace la pizza Ti vedo domani Lo Lo Conosco bene La Amo Molto Ci Incontriamo al parco Vi Aspetto qui Li Ho Visti Ieri Mi hai chiamato stamattina Ti ho mandato un messaggio La mia amica mi ha prestato il suo libro Io ho parlato del mio lavoro Le ho dato il mio numero di telefono Ci hai invitati alla tua festa? Vi abbiamo portato un regalo Accordo Disaccordo Disaccordo Lecito Illecito Conosciuto Sconosciuto 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 Continuo Discontinuo Fortunato Sfortunato Sfortunato Onesto Onesto Disonesto Disonesto Educare Diseducare Diseducare Provveduto Provveduto Sproveduto 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 Amore Disamore Amore Disamore Consigliare Consigliare Sconsigliare Sconsigliare Giungere Disgiungere Cortese Scortese Questo è il cane di Giulio Anna sta a Napoli da agosto Sto per cominciare il lavoro Il telefono è nel mio ufficio Sto facendo le pulizie a casa Tutti i miei amici sono in ferie Questi biscotti sono buonissimi Non voglio stare seduto qui Fumare al cinema è vietato Sto uscendo per fare la spesa La gita sta andando molto bene La mamma è di buon umore Oggi sto ancora un po' a casa L'auto non deve stare aperta Siamo contenti per l'esame State al caldo e non uscite Dobbiamo stare attenti al cane Luca è ancora in salotto Le mie penne sono nello zaino In casa si sta molto bene Sono già stato in biblioteca E ora che faccio? Glielo dico o no? Anna ed Elena sono in ritardo E anche Claudia è arrivata tardi Luca deve leggere e imparare Devi scegliere se ci vai tu o io Ho degli amici che abitano a Dimola Cerco e intorno non travo niente Hai detto a Elisa che siamo in città Ad arrivare ci metto molto poco Tramunta il sole ed è subito notte Siete stati al mare ed era nuvoloso La tua bandiera è blu e arancione Non so se lui è italiano o albanese Il mio amico è magro e alto A casa tua si mangia bene Le monete sono nella cassa Luca indossa un cappello Hai un capello sulla giacca Ho tolto la neve con la pala Domani giochiamo a palla Fa caldo e ho molta sete Ci vediamo alle sette in punto La nonna ha fatto il tonno Parla con un tono più basso Parla con un tono più basso Hai già fatto la spesa oggi? Devi portare fuori il cane Dopo andiamo dal nonno Sono già al nonno episodio Ho appena steso i panni Luca ha bisogno di un po' di vacanze Per guadagnare bisogna lavorare Ditemi di che cosa avete bisogno Bisogna partire prima delle nove La nonna ha bisogno di aiuto oggi Luigi è nei guai Bisogna aiutarlo Per fare l'esame bisogna che studi Chi si allena ha bisogno di acqua Per partire bisogna fare le valigie Claudio ha bisogno di andarsene Bisogna che ti svegli più presto Abbiamo bisogno della tua auto Non c'è bisogno di mangiare tanto Hai bisogno di fare una pausa Di che cosa hai bisogno? Bisogna aspettare in silenzio Per leggere bisogna avere un libro Bisogna che qualcuno ti spieghi Hai bisogno di uscire di più Bisogna che lui si svegli presto Luca ha bisogno di 200 euro Noi abbiamo cercato di chiamarti Io ho dato la penna a Claudio Loro hanno continuato da sole Carla è ritornata dal viaggio Oggi sono andato a lavorare Noi abbiamo visto un gatto nero Luca ha dimenticato le chiavi Loro hanno visitato il museo d'arte Voi siete usciti dal ristorante Luigi è partito per le ferie Lei ha comprato questo cane Voi siete andati in pensione Tu hai avvertito i tuoi genitori Le rane sono saltate nell'acqua Voi avete evitato un incidente Io ho lavato la macchina Noi abbiamo messo via la spesa Tu hai corso fino in stazione Maria ha ottenuto il diploma Noi siamo stati spesso a Roma Tuo figlio ha giocato a calcio Non ho studiato perché stavo male Non è solo bella È anche ricca La stanza è piccola Ma almeno è pulita Sta per piovere Infatti è nuvoloso Tra l'altro Non sono neppure stato avvertito Questo film è così noioso Parla chiaro così che lui capisca Non è divertente Però è necessario Prendo una bibita invece del caffè Sono invitati tutti tranne Claudia Non posso venire prima di domani sera A quei tempi andavamo in giro insieme Ho visto quel film solamente una volta Ci siamo visti in piazza qualche mese fa E allora che cosa facciamo? È davvero tardi Adesso me ne vado Mentre lei dormiva Ho cucinato la cena A questo punto non so più cosa fare Alla fine non abbiamo mangiato nulla Prima studiamo e poi usciamo Sono arrivato giovedì Cioè ieri Se sei stanco Vai a letto Se nevica Non vado a passeggiare Se non si sbriga Perde l'autobus Se bevi così tanti caffè Ti innervosisci troppo Se vieni a trovarmi Ti dico le ultime novità Se partiamo subito Non troviamo sicuramente traffico Se vai in città Dimmelo che vengo con te Se tornate in tempo Mangiamo insieme Se questo libro ti piace Te lo regalo Se ha la febbre Deve rimanere a letto Se studierai di più Riuscirai a preparare più esami Se a Natale avremo un po' di ferie Andremo a sciare Se mi promette che guiderà piano Andrò in macchina con lui Se la prossima settimana sarò ancora malata Andrò dal dottore Se saranno buoni Li porterà al parco Se avesse più tempo Rimarrebbe qualche giorno in più a Roma Se Pino ascoltasse i suoi consigli Si troverebbe meglio Se non prendesse l'ombrello Si bagnerebbe completamente Se gli esercizi non fossero così difficili Finirebbe prima i compiti Se non avesse un altro impegno Ti chiamerebbe volentieri Grazie a tutti